Ti chiedo di riflettere e ragionare su queste domande ma non darmi le risposte, dai la risposta a te stesso. Ti senti valorizzato durante le ore lavorative? Riesci a trovare o a generare del tempo di qualità durante la tua giornata? Ti senti felice? Se hai risposto no ad almeno una di queste domande, io sono nel posto giusto. Io sono un calabrese di ritorno, ho vissuto 15 anni in giro per l'Italia, prevalentemente tra Bologna e Roma. Ciò che andrò a fare in questi 14 minuti è raccontarvi la mia esperienza personale, sperando che possa ispirare qualcuno di voi a cambiare vita. Se hai risposto no a una di queste domande. Soprattutto nell'ultimo periodo della mia esperienza romana vivevo questa situazione in un modo molto stressante. Tornavo spesso a casa e Nunzia, mia moglie, mi diceva, Fra ma io ti vedo sempre a testa bassa, com'è possibile questa cosa? Questo stress era generato soprattutto da una stanchezza atavica che mi portavo dietro perché pensate cosa può voler dire dover spendere tre ore del proprio tempo semplicemente per spostarsi dalla casa dove si vive alla casa dove si lavora tutti i giorni, tutto il giorno. Questo succedeva perché noi cresciamo in un ambiente che ci porta a competere in un modo non sano, una competizione pensata per poter raggiungere qualche livello all'interno della società, dobbiamo scalare e ambire a diventare qualcuno. In me questa cosa diventava un sentirmi massificato, non riuscivo a far emergere la mia identità, non riuscivo a far emergere chi realmente fossi, generando questo senso di smarrimento. Quindi a un certo punto ho detto ok, fermiamoci, reset e come la lumaca piano piano si muove portando dietro questa grande casa che diventa anche una protezione durante il suo viaggio, ho inteso fare ritorno in Calabria proprio con l'obiettivo di cambiare completamente approccio e nel farlo ho dovuto togliere tutte le sovrastrutture alle quali ero abituato e con le quali ero cresciuto. Quindi ho dovuto rivalutare completamente tutto il contesto intorno a me, riconcettualizzando quelli che fossero i valori più importanti e quindi le mie priorità. La prima cosa che mi colpì tornando a vivere in Calabria furono i colori. Venivo da una città dove il colore principale intorno a me era il grigio e tornando a vivere al sud ho iniziato a rivedere il blu del mare, il verde della campagna e questo in me già generava uno stato di equilibrio molto più solido di quanto non fosse in precedenza. Ma il vero cambiamento partì dal prendere coscienza del fatto che la grande vera ricchezza che avevo non era la ricchezza economica, quanto piuttosto il tempo. Quando presi coscienza di questo iniziai a ragionare sul fatto che non è tanto una questione di lavorare di più o produrre di più, è quanto piuttosto una questione di lavorare meglio, di fare meglio, di usare meglio il mio tempo e quindi anche il vostro tempo. Nasce così l'idea di avviare una nuova esperienza aziendale insieme ad altri professionisti usando una parola fin dall'inizio, otto anni fa che adesso è molto di tendenza. Per chi ha visto la serie su Netflix Orange is the New Black, ho pensato di riconvertirvela in Smart Working is the New Black perché è sulla bocca di tutti, ma mi piace condividere con voi che cosa vuol dire fare Smart Working. Intanto capiamo che cos'è in generale per qualcuno lavorare da solo, essere freelance, i freelance possono scegliere di lavorare da remoto, quindi da dove vogliono, con il proprio UPC, se replichiamo questa logica in una logica aziendale possiamo iniziare a parlare di Smart Working. Noi siamo abituati alle aziende piramidali, c'è un capo che ci dice che cosa dobbiamo fare, quando lo dobbiamo fare, entro quando lo dobbiamo fare e questa cosa va fatta nelle 40 ore settimanali se ci va di lusso e il nostro obiettivo diventa raggiungere lo stipendio a fine mese. Lo Smart Working intende invece le aziende in modo orizzontale, siamo tutti sullo stesso livello, tutti contribuiamo attivamente al raggiungimento di determinati scopi che sono condivisi con una visione ben precisa, ognuno di noi lavora sulle proprie passioni. Questa cosa può funzionare e in me ha portato il cambiamento perché mettendo al centro le persone, facendole diventare il sole, il faro dell'azienda, ho iniziato ad avere molta più fiducia negli altri, molta più fiducia negli altri perché ognuno di noi può gestirsi il proprio tempo lavorativo come meglio crede, deve farlo però con grande responsabilità perché l'utilizzo del mio tempo ha un impatto sul tempo degli altri, ma responsabilità è uno dei valori base per poter lavorare in Smart Working anche e soprattutto perché lavoriamo in una logica molto orientata al raggiungimento degli obiettivi, quindi la mia domenica potrebbe essere il mercoledì, io potrei lavorare dal mare, dalla montagna o dalla campagna senza una definizione di luogo fisico al cui interno devo stare, ma lo Smart Working è bello perché porta anche la trasparenza, trasparenza perché tutti sono al corrente di ciò che viene fatto all'interno dell'azienda, anche e soprattutto come l'azienda incassa e investe le proprie economie. Ma la cosa più bella che ha portato in me lo Smart Working è il potermi arricchire nel collaborare con professionisti da varie parti d'Italia o d'Europa e poter iniziare ad aprire il punto di vista interagendo con loro, quindi è un modo democratico se vogliamo di lavorare, dove non ci sono filtri religiosi, politici, di genere, non c'è il problema più uomini o più donne, non dobbiamo pensare alle quote rosa perché è tutto un approccio basato su quanto possiamo e vogliamo essere proattivi e quindi quanto soprattutto vogliamo condividere la nostra conoscenza con gli altri professionisti che fanno parte dell'azienda. Quindi iniziamo a parlare di Work Life Fusion, questa che vedi è una foto vera ed è un classico modo con cui noi intendiamo spesso lavorare, equilibrando il nostro tempo lavorativo con il nostro tempo personale, cercando di farlo in una situazione che sia meno stressante possibile, meno stressante possibile perché al centro di tutto ci sono le nostre passioni, le nostre passioni diventano inevitabilmente il nostro lavoro perché l'obiettivo di tutti è quello di raggiungere uno stato di libertà e quindi di felicità. Lo smart working tendenzialmente se ti documenti un po' in giro è basato su 3B, la prima sono i bricks e sono gli spazi al cui interno noi lavoriamo. Possiamo lavorare all'interno dei co-working, quindi le unità immobiliari spesso concepite come in uffici diventano delle unità aperte dove vari professionisti condividono degli spazi per lavorare insieme. possiamo lavorare all'interno dei co-living, quindi nuove forme di strutture ricettive dove gli ospiti condividono sia gli spazi abitativi quanto gli spazi lavorativi. Possiamo lavorare a casa nostra, quindi la casa che intendiamo spesso solo ed esclusivamente da un punto di vista della vita personale diventa condivisione di spazio lavorativo e spazio privato. La seconda B sono i behavior, i comportamenti. Quella che vedi è Nicotera ed è il piccolo borgo di mare sulla costa degli dèi dove ho scelto di andare a vivere. Quindi ti dico è possibile tornare al sud? A questa domanda rispondo sì, io l'ho fatto. È possibile vivere e abbracciare la lentezza del sud e vederla come un'opportunità? Sì, è possibile. L'importante è mettersi in un'ottica di eliminare le proprie sovrastrutture, capire chi sei, capire cosa vuoi da te, capire quali sono le tue passioni e in funzione di questo impostare un progetto di vita. Lo smart working ha un impatto positivo sull'ambiente perché lavorando da casa non mi devo alzare la mattina a prendere un'auto e fare un'ora di strada per raggiungere il luogo di lavoro, non prendo metro, non prendo bus. Ho un impatto in generale positivo sull'ambiente e il contesto circostante. Ma è stata anche una grande palestra di vita. Avendo vissuto sempre nelle città pensavo che qualsiasi cosa mi venisse in mente la potevo acquistare. Andavo al supermercato prendevo le pesche a dicembre o prendevo i kiwi ad aprile. Questa cosa tornando a vivere in Calabria ho scoperto che è un grande fake. Esiste la stagionalità, ho capito che esiste la stagionalità ed è stato un grande insegnamento anche perché oggi vivo di tutto ciò che è autoprodotto dalla mia famiglia. Quindi il supermercato l'ho completamente eliminato se non per alcuni prodotti trasformati. L'ultima B sono i bytes. Noi spessissimo utilizziamo il cellulare, spesso per gioco, spesso per noia, spesso per apatia, ma questi strumenti ci consentono di lavorare e di entrare in contatto tra di noi. Quindi grazie al digitale noi possiamo creare delle relazioni umane pur scegliendo luoghi diversi nei quali vivere. penso ad esempio ad Asana come strumento per capire il chi fa cosa e dare la trasparenza in azienda di modo che tutti sappiano su quali progetti si sta lavorando. Penso a Slack che è uno strumento di comunicazione che ci consente appunto di chattare e stare comunque in contatto seppur non stando all'interno dello stesso luogo fisico per lavorare. Penso a Zoom perché un grande problema del lavorare da remoto e dello smart working è che siamo spesso soli. quindi bisogna avere una grande autodisciplina, bisogna essere molto bravi a lavorare ad obiettivi, bisogna riuscire a superare il freddo che spesso porta con sé l'essere da soli all'interno di uno spazio del genere. Noi abbiamo cercato di metterci il cuore in questa cosa e quindi ci abbiamo aggiunto un H a quello che solitamente trovate in giro per la rete. La nostra H è l'ho human perché le persone sono il nostro sole, sono al centro del nostro ragionamento. Quelli che vedete sono 26 professionisti che oggi hanno deciso di associarsi ad Evermind proprio perché hanno voluto cambiare vita. Ognuno di loro sceglie e vive in un luogo diverso, ognuno di loro sceglie come e da dove lavorare senza alcun vincolo di orario gestendosi in completa autonomia. Io vi lascio con questa frase che ben rappresenta il mio percorso di cambiamento. Mi sembrava superfluo inventarmene una io quando ci sono dei mostri sacri che lo possono fare sicuramente meglio di me e quindi questa frase rappresenta molto bene questo tipo di percorso che ti ho appena raccontato e che il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi e vi invito a farlo. Grazie a tutti.